Se è da posto, grazie! Se è da posto, grazie! Se è da posto, grazie! Vioz in vantaggio su Big Valentino e Sacriportus. 5-1-2. 5-1-2. Vittoria di Vioz su Big Valentino e Sacriportus. L'ultima prestazione aveva messo Vioz, secondo noi, in linea con Sacriportus. E oggi ha ripetuto quello standard, pressing continuo su Sacriportus, attacco a metà retta, difesa da Big Valentino, che si piazza sempre. E terzo è rimasto Sacriportus sul finish di Fjercrai.